Ho la sensazione che qua sotto ci sia una bomba. No! Abbiamo trovato un drago bianco occhi blu da Legend of Blue Eyes. Non può essere. No, dai, raga, no. Un drago bianco occhi blu ultra da un set di Blue Eyes. Ma non è vero. Ma non è vero, non è vero, non è vero, dai. Ma non è vero. Dai, ma che cazzo, raga. No. Non è normale, eh. Non è normale sta cosa. Ma che cazzo. Ma che cazzo. No.